Grazie Presidente, siamo d'accordo nel voler intraprendere queste azioni necessarie per la nostra capitale, però mi spiace rilevare forse che gli emendamenti sono stati fatti un po' come fosse un lavoro, semplicemente d'ufficio. Non so se avete letto il regolamento, queste cose sono nel regolamento di Polizia Urbana e tenderanno ad andare in questa direzione, proprio nella direzione di tutelare l'interesse storico dei nostri siti storici, artistici e intervenire per fermare per quanto possibile tutti quei comportamenti che danno la non decorosità e soprattutto non fanno altro che conferire una visione di inciviltà nella nostra capitale. Faccio un piccolo accenno, sempre al discorso Polizia Locale, perché quei mille vigili circa che sono stati assunti negli ultimi tempi, la maggior parte sono proprio stati destinati al primo municipio, che è il municipio poi in cui avvengono molti di questi comportamenti contro il decoro, quindi comunque consegniamo il voto favorevole.